Fra le aziende produttrici di smartphone cinesi di tipo rugged, senz'altro una delle più frequenti presenti sui nostri canali nell'ultimo periodo è Hotwave, azienda che era sconosciuta anche a noi fino a qualche mese fa, ma che ultimamente sta investendo davvero parecchio nel settore appunto degli smartphone rugged con dei dispositivi che tra l'altro hanno anche un gran perché, perché a volte molti di questi arrivano con delle schede tecniche del tutto inaspettate rispetto a quelli che sono i classici dispositivi rugged che siamo abituati a vedere. Perciò oggi vi racconto il nuovo Hotwave Hyper 7 Pro, uno smartphone che si distingue per la sua parte posteriore, realizzata in materiali del tutto inconsueti per un rugged. Hotwave Hyper 7 Pro è uno smartphone rugged che si distingue per il suo design ottimizzato e per le dimensioni relativamente compatte rispetto agli standard del settore. Con misure pari a 174x82x18.4 e un peso di 396 grammi, Hyper 7 Pro riesce a integrare una batteria da 10.800 mAh senza risultare eccessivamente pesante. E sì, è vero che comunque stiamo parlando di circa 400 grammi di smartphone, ma devo dire che è talmente ben distribuito che quasi non ci si accorge di avere fra le mani uno smartphone di questo peso. Frontalmente, Hotwave Hyper 7 Pro ha un aspetto tipico, ma la parte posteriore presenta una cover realizzata in pelle sintetica con due colorazioni differenti, nera e rossa. Una scelta del tutto atipica per un prodotto di questa categoria. Di fatto Hotwave non è nuova a scelte anacronistiche e questo smartphone ne è proprio la conferma. La cover inoltre è interrotta da un inserto rettangolare di colore giallo che integra una torcia da campeggio, ben più potente del canonico flash a LED che si trova nella moltitudine di smartphone in circolazione. Altro elemento distintivo che fa proprio la differenza nel mercato, ma che non rappresenta una novità, soprattutto per la stessa Hotwave, è il Camera Bump che include anche un display secondario rettangolare touchscreen. Questo display offre funzionalità pratiche come la visualizzazione dell'orario, controlli per l'app fotocamera, avvisi di chiamate e notifiche. È anche personalizzabile con una serie di grafiche preinstallate nel software di sistema. Di fatto era già una chicca che avevamo visto nel modello Cyber 15 che ho provato qualche settimana fa, ma che si conferma essere più qualcosa di scenografico che è qualcosa di concretamente utile. Per il resto Hyper 7 Pro è costruito con un telaio in parte in alluminio e in parte in plastica, soprattutto negli angoli, e ha dimostrato anche una buona resistenza durante i test di caduta. Non a caso rispetta gli standard di certificazione IP68, IP69K e militari standard 810H, confermando di fatto la sua indole di smartphone rugged. Per quanto riguarda i tasti, invece, il lato destro ospita il sensore biometrico integrato nel tasto di accensione, che funziona bene anche come unico sistema di sblocco. Sempre sul lato destro c'è il bilanciere per la regolazione del volume. Sul lato sinistro, invece, c'è il slot per la SIM e la microSD e un tasto programmabile che permette di impostare tre diverse funzioni a seconda del numero di click che si impostano. E per quanto riguarda il display, ragazzi, se avete visto la recensione del Cyber 15 di qualche settimana fa, di fatto qui non ci sono assolutamente differenze, ad eccezione di una piccola differenza che poi è racchiusa nel feedback-vibrazione decisamente migliorato e non più il classico feedback zanzaroso molto fastidioso che fa tanto rumore ed è bruttissimo quando, insomma, si va a digitare sul touchscreen. In questo caso è molto morbido e davvero piacevole da utilizzare, soprattutto se si ha l'abitudine di digitare velocemente. Qui con lui non avrete problemi di nessun tipo. Per il resto si tratta di uno schermo IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione full HD+, e refresh rate fino a 120 Hz, caratteristica piuttosto rara nel mercato dei rugged, ma che HotWave ci sta abituando a vedere sempre più spesso. Qui un po' come è successo con gli altri modelli provati, nonostante le promettenti specifiche tecniche, non abbiamo delle prestazioni particolarmente eccellse nell'utilizzo pratico. Mi spiego, per utenti meno esigenti, la qualità del display è sicuramente adeguata, ma altri potrebbero trovarlo un po' freddo nelle tonalità e leggermente spento. In compenso, la reattività del touchscreen è eccellente, un aspetto notevole per un rugged phone, poiché molto spesso questi dispositivi sacrificano la precisione del touch a favore della resistenza del display. Questo schermo, infatti, è comunque protetto da un Gorilla Glass, caratteristica che ne certifica la resistenza a urti e cadute. Ancora una volta, HotWave sceglie Mediatek per la piattaforma hardware a disposizione di questo smartphone e lo fa soprattutto con una CPU molto interessante, già vista anche su tanti dispositivi tradizionali di fascia media. è il Dimensity 7050, una CPU con processo produttivo a 6 nanometri con struttura octa-core. Il dispositivo è venduto con 16 GB di RAM, pensate un po' che possono essere ulteriormente espansi dinamicamente fino a 20 GB ulteriori per un totale di 36 GB di memoria RAM. Lo storage interno è pari a 256 GB, con possibilità di espansione fino a 2 TB tramite i microSD. Tralasciando i numeri dei benchmark che in uno smartphone rugged sono molto più che superflui, posso dirvi tranquillamente che qui l'esperienza d'uso è fluida ed è quasi paragonabile a smartphone di altre fasce di mercato, anche se occasionalmente possono verificarsi piccoli rag e rallentamenti nell'interfaccia, cosa che non mi stupisce in questo ambito dove l'ottimizzazione software non è mai un fiore all'occhiello. Anche con i giochi pesanti l'Hyper 7 Pro non mostra difficoltà e gestisce bene le temperature anche in situazioni di stress e utilizzo intenso. A livello di connettività il dispositivo è dotato di NFC per i pagamenti cardless, supporto al Bluetooth 5.2, alle reti 5G e contro ogni pronostico anche alle reti Wi-Fi 6, specifica del tutto inaspettata al momento in questo mercato. Ed è sul fronte software ragazzi che questo Hotwave Hyper 7 Pro si distingue per una buona ottimizzazione contro ancora una volta ogni aspettativa. Lui arriva con Android in versione 14 e patch di sicurezza aggiornate a maggio 2024. Rispetto a tanti altri produttori di Rugged, personalmente ho notato un'attenzione maggiore da parte di Hotwave sul fronte software dal momento che la ROM installata è semplice e sono state limitate le aggiunte al minimo indispensabile, il che consente di offrire un'esperienza utente essenzialmente simile a quella di un Android Stock con solo alcune modifiche grafiche come icone e launcher personalizzati. Niente aggiunte particolari di app a bordo, se non la solita tool bag con le app canoniche di ogni Rugged e un'applicazione per poter gestire la torcia con diverse tipologie di accensione. Un altro comparto dove non ci sono grosse differenze rispetto al modello che ho provato qualche settimana fa è quello fotografico dove anche lui arriva con le stesse lenti a disposizione. Due nella parte posteriore, una prima era da 200 megapixel con apertura f2.0 e una secondaria night vision per fotografie in scatti in bianco e nero come abbiamo già visto su tanti altri modelli da 24 megapixel. Caratteristica sempre più diffusa ma inconsueta da vedere così da sola senza l'utilizzo di altre lenti come quella zoom macro oppure la grandangolare. La fotocamera frontale invece è da 32 megapixel. Per quanto riguarda la qualità fotografica, come spesso accade con gli smartphone di questo tipo, non c'è da aspettarsi chissà quali risultati. Di giorno e con buona illuminazione le foto sono accettabili, sebbene a volte sia necessario mettere a fuoco manualmente per ottenere scatti sufficientemente nitidi. Lo stesso vale per i primi piani, dove la messa a fuoco può richiedere anche qualche tentativo in più. In generale le foto di urne comunque sono sufficienti. Di notte la qualità delle foto è leggermente superiore alla media per questa fascia di prezzo, con immagini che risultano nel complesso discrete. La fotocamera frontale da 32 megapixel invece produce immagini di qualità sufficienti, anche loro superiore alla media del mercato degli smartphone rugged. Per quanto riguarda la registrazione video, Hyper 7 Pro può registrare in 4K a 30 frame al secondo, con una qualità anche qui sufficiente, seppur come sempre manchi una buona stabilizzazione, il che rende i filmati tendenzialmente vibranti e non molto piacevoli da condividere. Autonomia ragazzi, naturalmente eccezionale, con una batteria da 10.800 mAh a bordo e dei dati di fabbrica che ci certificano fino a 1.500 ore di stand-by per questo dispositivo. Non le ho provate fino in fondo, ma posso dirvi che lo avevo dimenticato acceso sulla schivania prima di iniziare la prova, perché abitualmente appena li dicevo li accendo per settare gli account, eccetera, ma poi li metto in coda per aspettare che arrivi il loro turno. E l'ho lasciato circa una ventina di giorni acceso sulla mia scrivania ed è praticamente sceso forse del 30-40% all'incirca in 20 giorni, quindi vi fa capire la durata della batteria di questo dispositivo. Per il resto ragazzi, utilizzandolo concretamente nell'uso di ogni giorno, si possono ottenere fino a circa 4 giorni di utilizzo se non siete degli smanettoni e fino a due giorni di utilizzo completo, stressante, al 100% con uno smartphone che difficilmente insomma vi può abbandonare così da un momento all'altro. Per il resto ragazzi anche la ricarica è buona, 33 watt a disposizione, che ci consentono di ricaricare il dispositivo in poco più di un'ora, che sono dei dati del tutto interessanti se si pensa all'amperaggio della batteria. Parlando di prezzi invece ragazzi, lui è uno smartphone che viene venduto come spesso accade in questo ambito, ad una cifra poco superiore ai 250-300 euro, giù di lì poi naturalmente in descrizione trovate il link con l'offerta di lancio aggiornata ed è uno smartphone che come tanti altri ragged può avere il suo perché, ma non è dedicato sicuramente a tutti. Se siete alla ricerca di uno smartphone ragged, indistruttibile, se siete degli sbadati, se non vi interessano le foto, allora può essere un dispositivo sicuramente interessante nell'uso di ogni giorno, ma se invece cercate uno smartphone concreto, leggero, portatile, avete un certo interesse per le fotografie, magari volete un software che si aggiorni nel tempo, allora sicuramente non può essere la scelta giusta. A chi è consigliabile l'acquisto, sicuramente, a chi ha la necessità di uno smartphone da maltrattare, da usare nei posti di lavoro, di certo non ad un ufficio, come magari è il mio caso, insomma, a chi è un po' più sbadato e non ha grosso interesse nello smartphone, ma soprattutto cerca una resistenza ultra ultra, senza rinunciare un po' all'estetica, perché con questa back cover in pelle, diciamo, anche lui cerca di strizzare l'occhio a quelli più attenti al design. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Giz, e ciao da Nicola. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!